buongiorno a tutti sono maria creatrice insieme luca che mi assiste nella parte tecnica del sito costruire cartamodelli.com con merlin fashion quest'oggi vi propongo il modello per costruire la variante per un seno importante di una signora che abbia un seno abbastanza pronunciato le circonferenze le misure che mi sono state date sono queste è una circonferenza torace di centimetri 98 che diviso 2 mi da 49 abbiamo diminuito pochettino 48 per non avere una taglia troppo grande la circonferenza seno 104 la lunghezza